Qual è la chiave moderna? Per lei che senso ha la tragedia? Prima di tutto penso che non sia assolutamente necessario che questa chiave moderna ci sia. Cioè è una specie di presupposto che noi pubblico abbiamo quando dobbiamo vedere un film. Comunque c'è. Ed è in qualche modo altrettanto attuale, anzi probabilmente molto di più che per l'Edipo. A tre parentesi le dirò che non soltanto io non vedo differenza tra l'Edipo e Medea, ma non vedo differenza nemmeno tra Cattone e Medea, e nemmeno molta differenza tra il Vangelo e Medea. Cioè praticamente un autore fa sempre lo stesso film. Si tratta di varianti, anche profonde, di uno stesso tema. Il tema, come sempre nei miei film, è una specie di rapporto ideale, è sempre irrisolto, tra mondo povero e plebeo, diciamo sottoproletario, e mondo colto, borghese, storico. Questa volta ho affrontato direttamente, esplicitamente questo tema. Medea è l'eroina di un mondo sottoproletario, arcaico, religioso. Cesone invece è l'eroe di un mondo razionale, laico, moderno. E il loro amore rappresenta il conflitto tra questi due mondi. Pasolini inizialmente presentava il film, nelle prime interviste che rilascia sul film, parla di un documentario antropologico, spiazzando completamente gli intervistatori, che si aspettavano magari che annunciasse un colossal in costume con Maria Callas. Lui invece dice, sì, sto preparando un film sull'origine dei miti legati all'agricoltura. Ciò che tu vedi nei cereali, ciò che intendi di rinascere dei semi, è per te ormai senza nessun significato, come un lontano ricordo che non ti riguarda più. Infatti non c'è nessun dio. Questo è almeno ciò che prevede questa nostra divina ragione. Ciò che essa non può prevedere, disgraziatamente, sono gli errori a cui ti condurrà. E chissà quanti saranno. Tu andrai da tuo zio, un urpatore del tuo regno, a reclamare i tuoi diritti. Ed egli, per eliminarti, avrà bisogno di qualche pretesto. Ti manderà a compiere qualche impresa, a riconquistare il vello d'oro, per esempio. Così te ne andrai in un paese lontano, fila dal mare. Qui farai esperienza di un mondo che è ben lontano dall'uso della nostra ragione. La sua vita è molto realistica, come vedrai. Perché solo chi è mitico è realistico. E solo chi è realistico è mitico. Se io dovesse indicare quello che è per me Medea, lo trovo uno dei pochi film veramente enigmatici di Pasolini. E è questi momenti di abbandono da parte dell'operatore, da parte di Pasolini, anche di distrazione. Alcuni sembrano dei test di luce. Non è un cineasta del cinema, voglio dire Pasolini, ma è un cineasta che va contro, verso il cinema, contro il cinema. Per vincere o perdere, ma in ogni caso non per stare, non per godersi del, diciamo, godere di una bellezza. Alla fine, questo lo avvicina un po' a Fellini, ma lo avvicina al cinema tutto. Diciamo che c'è una sorta di situazione di parata. Il cinema è una parata. I spazi, i luoghi, le forme del paesaggio, i colori del paesaggio, la natura del particolare, di determinati luoghi, anche la loro marginalità. Per Pasolini il lavoro del cinema significa anche portare il cinema dove non è mai stato. Per oggi è anche il contrario, perché il paesaggio è tutto dentro la Callas. È la Callas il paesaggio principale del film. Cioè, tutto si ri-innesta, si ri-impiastriccia sul suo volto. La Callas è un monumento e nello stesso tempo è qualcosa che scardina l'autorialità referenziale o anche autoreferenziale dell'intellettuale, legista, poeta, tutto quello che si vuole. È un cinema che sfida tutto il male che può derivare dal primo piano, quindi con un effetto molto forte sullo spettatore che o lo porta, lo svelle dalla poltrona comoda, più o meno comoda di spettatore, lo proietta in varie direzioni. La Medea le era già stata offerta dal regista deranese Dreyer. Perché ha scelto Pasolini? Sa, quello è un po' il destino. Pasolini è giovane, Dreyer era un po' tanto vecchio e purtroppo è morto nel frattempo. Come vede il suo personaggio? Come Medea. Pasolini riconobbe la Callas un forte temperamento e anche una grande violenza di sentimenti, in quel che di razionale, di magico, di primordiale che ha. Non mi riconosci? Sì. Sei il padre di mio padre. E allora che cosa aspetti? Coraggio. Io credo che sia segnato da questo amore letteralmente impossibile, ma il film si è segnato molto da questo. Per questo poi regge questo carico mitologico, questo carico mitografico, questa distanza intellettuale, perché c'è un nucleo caldo che probabilmente resta fuori del film ma che lo produce comunque. Devi dire se va bene. Io ti dico quando si va a ripartere. Conosce Giuseppe Gentile, l'atleta che farà il Giasone? Non ho ancora conosciuto. Come è stato scelto? Beh, direi piuttosto al signor Rossellini che lo dica. E' stato scelto? E' stato scelto insieme a Pasolini e poi la signora Callas ha visto delle fotografie che ha provato. Anche perché è molto alto, ha un bellissimo fisico, eccetera. Questa è la ragione. Sì, era anche una ragione principale per il vicino a me, essendo una donna altissima e abbiamo pensato che ci vuole assolutamente un Giasone e un bel ragazzo e molto ben fatto. Sì, è stato scelto. Sì, è stato scelto. Sì, è stato scelto. In Pasolini ci sono i due corpi ripresi da un'angolazione completamente diversa e poi c'è soprattutto il gioco dello sguardo di Medea. C'è già una prefigurazione della poetica, della corporalità, della trilogia della vita perché lei guarda il corpo nudo di Giasone, solo che per ragioni di censura forse Pasolini avrebbe voluto mostrare anche la nudità di Giasone perché c'è proprio una lunga contemplazione. La ricchezza di Giasone, di Pasolini è proprio secondo me la sua polifonia, il suo disperdersi appare del tutto apparente che però è il suo migrare da un codice all'altro in un attimo finché questa danza dei codici poi in qualche modo contribuisce all'annullarsi di tutto, se vogliamo. Quindi c'è un senso quasi romantico tutt'altro che nuovo ma molto intenso del perdersi di una sorta di welchmerz. Però è come se il cinema lo salvasse e salvasse grazie a questo. Sono monumenti in Pasolini sono esattamente come alcuni monumenti nei quali puoi incappare ma il senso del suo cinema è sempre monumentale anche quando è in un piccolo interno quando non si vede traccia di costruzione c'è solo un paesaggio per un attimo. È comunque un cinema che sa di essere già museo è insieme architettonico e selvaggio come un teatro come potrebbe essere un pezzo del living. L'ispirazione stessa di Pasolini era scandalosa perché i soggetti che sceglieva i temi che facevano parte della sua poetica erano scandalosi spesso. Poi c'era anche in secondo luogo in aggiunta a questa spontaneità gli veniva spontaneo scandalizzare in aggiunta a questo c'era anche il gusto dello scandalo. A rimettere in gioco in crisi quelli che erano i pregiudizi le convenzioni aveva sempre un ruolo critico era una scossa che veniva data ma non era tanto per fare. Io non intendo quando dico faccio il film per elite parlare dell'elite classica cioè dei privilegiati detentori del potere e quindi della cultura niente affatto io dico per elite ma l'elite la cerco là dove la trovo posso benissimo trovarla appunto in queste minoranze operai avanzate il suo interlocutore era il meccanico di Torino facendo Medea io quando parlo di elite intendo un nuovo tipo di elite evidentemente l'elite che è quel decentramento di cui parlavo rispondendo Ghirelli e che è quindi un fatto estremamente democratico e che va a ricercare e che si decentra quindi dappertutto a qualsiasi livello noi non siamo elite allora risulta voi siete l'elite classica perché non vedo qui nessun operaio e nessuna analfabeta per esempio lei compreso non crede che questo giudizio anche alla luce dei recenti avvenimenti sociali sindacali e politici degli ultimi anni in Italia deve essere rivisto nel senso che all'interno di una massa indiscriminata sta emergendo in maniera molto precisa chiamiamolo il movimento operaio la classe operaia a me sembra che l'arte di Robustelli sia entrata perfettamente in sintonia con l'universo visionario di Pasolini soprattutto perché è assolutamente personale attraversare l'iconografia pasoliniana facendone scatolire una nuova iconografia delle nuove forme un nuovo uso del colore della materia ecco questa poi riflessione sulla materia è importante perché il cinema di Pasolini è un cinema materico di Pasolini parla 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 dove sei Dove ti ritrovo? Dove il legame che ti legava al sole? Tocco la terra con i piedi e non la riconosco. Guardo il sole con gli occhi e non la riconosco. Paesemente non c'è un riferimento forte di identità quasi sovrapponibile, non dico proprio da pantovera fotte, paro paro, però alla figuratività già del cinema col solito quadrangolo che sia già a una distanza anche adesso fisicamente che qua vicino ci sono le sue cose, le cose di Giovanni. Potremmo fare un montaggio arbitrario tra queste immagini fisse e il muoversi del cinema, però potrebbe essere il contrario, la frequenza in pasorini distanti, freddi e immobili, raggerati e poi invece il contrario, insomma. L'avvicinarsi al vibrare di qualunque immagine, anche la più definita, la più immobile, la più cosa, se noi ci muoviamo si muove anche lei, quindi cambia, può diventare una fata margana, può diventare un'altra cosa. Le considero già adesso una serie di sovrimpressioni, tempi diversi di uno stesso spazio, insomma, vibrazioni diverse di uno stesso spazio. Lei ha avuto molta amicizia per Maria Callas, questa donna straordinaria, che cos'è che la affascinava in lei? Mi affascinava in lei la violenza totale dei sentimenti, cioè quando lei prova un sentimento, non è mai un piccolo sentimento mediocre o trattenuto, quando si prova un sentimento lo prova totalmente, senza freni. E questa ricchezza sentimentale mi piace soprattutto in lei. Rida, io voglio soffrire! Ma quel tuo stesso Dio ti condannerà, basta! Sì, basta, e che cosa vuoi da me? Lasciami seppellire i figli e piangerli! Torna piuttosto a seppellire la tua sposa! Sì, ci andrò, ci andrò, ma senza i miei due bambini! Ora il tuo pianto non è niente, te ne accorgerai nella tua vecchiaia! Ma il tuo caro Dio ti scongiuro! Lasciami accarezzare ancora una volta quei poveri corpi innocenti! No, non insistere ancora! È inutile! Niente è più possibile ormai! Sì, ci andrò, ma senza i miei due bambini! Sì, ci andrò, ma senza i miei due bambini! Sì, ci andrò, ma senza i miei due bambini! Sì, ci andrò, ma senza i miei due bambini!